Cala il numero di attualmente positivi al covid-19 in città. Secondo le ultime comunicazioni del sindaco Michele Abaticchio, al momento a Bitonto si conterebbero 13 contagiati. Tutti stanno bene e sono assistiti a domicilio dall'ASL. Buone notizie anche per il corpo di polizia municipale. Dai tamponi finanziati dal comune sono risultati affetti da coronavirus solo due agenti. Tutti gli altri rimasti in questi giorni in isolamento fiduciario in attesa dell'esito sono invece tornati già al lavoro. In città quindi si può tirare un piccolo sospiro di sollievo, ma non troppo. Non ci si può infatti cullare per la minore aggressività del virus perché è impossibile prevedere come il fisico dei contagiati possa reagire alle temperature invernali. Importante dunque continuare ad indossare la mascherina e a mantenere le distanze di sicurezza. Abitudini con cui dovranno convivere anche gli studenti. Se alcune scuole superiori hanno già ripreso le attività, da lunedì torneranno tra i banchi gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie, ad attenderli nuovi arredi e ambienti igienizzati. Toccherà ai genitori invece misurare la temperatura dei loro figli prima di uscire di casa. Sarebbe un atto di grave irresponsabilità permettere loro di andare a scuola con la febbre.